Salva la biodiversità all'interno dell'Arca del Gusto. Che cos'è questo stand? Che cosa fate? È uno stand in cui cerchiamo di salvare prodotti in via d'estinzione. Quindi tutte le persone che hanno voluto hanno portato chi il fagiolo di casa, chi la nespola della nonna, dei prodotti che se non salgono sull'Arca, se non ci accendiamo i ricinettori sopra possono scomparire e magari per i nostri nipoti non ci saranno più. Abbiamo visto tanta gente che è stata qua, che ha fatto la fila, la coda per registrare il proprio prodotto. Più o meno li avete già contati in questo primo giorno di salone quanti sono stati? Non siamo riusciti a contarli, non ho idea, mi viene da dire più di centinaia, nel senso che alcuni hanno portato magari da soli 20-30 prodotti, quindi con una scatolona arrivavano con un entusiasmo commovente davvero e quindi siamo veramente felici. Un po' intasati tecnicamente perché abbiamo la coda ma siamo veramente contenti. Dove li mettete tutti questi? Allora stiamo riempendo tutti questi spazi blu che sono dedicati, ognuno ha un'area geografica e penso che stringeremo i prodotti perché tutti poi hanno piacere di vederlo esposto. È il primo giorno di 5 molto intensi immaginiamo. Di 5 molto intensi, però quest'anno l'Arca del Gusto era uno dei temi centrali del salone e quindi abbiamo visto proprio anche negli occhi di chi ci portava il prodotto l'importanza. L'importanza perché poi in realtà non si parla solo di un cibo ma si parla proprio di una tradizione, di una storia e quindi ognuno poi ci tiene anche molto a raccontare il perché, quindi il legame con la tradizione, con la famiglia, col coltivatore che conosce, quindi è veramente una cosa piccolina che però riguarda tutti. Infatti uno dei motivi per cui li abbiamo mischiati è questa, non abbiamo scelto quei prodotti che sono già sull'Arca, nella parte destra, non sono divisi per area perché in realtà chi salva il pesciolino giapponese lo salva per tutti, lo salva per noi in Piemonte, lo salva per qualcuno in America, insomma la biodiversità è proprio di tutti. Statisticamente sono venuti più italiani, quindi più prodotti italiani o più stranieri? Direi che sono venuti più prodotti lontani, quindi dall'Africa, dal Sud America tantissimi, dall'America, dal Giappone, dalla Cina, quindi non so, forse perché alcuni stranieri sono già arrivati, però da molto lontano sono arrivati questi prodotti. Grazie.